Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus L'oroscopo di lunedì 11 settembre Ariete, approfittate di Mercurio favorevole per far decollare in maniera definitiva un progetto Sul lavoro ci sono ostacoli da superare, ma avete buone idee Poi dedicatevi all'amore, questa venere bellissima vuole vedervi felici, sorridenti Toro, l'amore torna ad essere equilibrato, non sentite più quel bisogno di sicurezza che vi ha contraddistinto nel corso delle ultime settimane Questo vi permette di instaurare un rapporto molto più sereno con il partner Gemelli, ancora qualche piccolo problema finanziario Dovete spendere con più oculatezza, avete davvero le mani bucate in questo periodo Invitate i vostri amici per una serata in compagnia, dovete evitare di starvene da soli Cancro, giornata tutto sommato positiva anche se iniziata ad accumulare parecchio stress A causa di Marte in posizione forse troppo stimolante Conviene programmare anche dei momenti di svago, di relax con il partner e gli amici Leone, parlare con voi sta diventando molto più complicato Siete fin troppo orgogliosi, in qualche caso addirittura presuntuosi Siete decisi ad andare avanti per la vostra strada, nonostante tutto manca un pizzico di modestia Vergine, l'una davvero molto interessante per il lavoro E anche se non tutto filera liscio, avrete comunque la giusta grinta e razionalità per mettere le cose a posto Insomma, non andrete in difficoltà L'amore promette passione Bilancia, qualcuno inizia a rappresentare una spina nel fianco Una nuova situazione professionale che può rivelarsi più insidiosa di quello che pensavate L'intimità della vostra casa, della coppia, può rivelarsi utilissima per rilassarvi Scorpione, l'amore può vivere un momento di difficoltà Saranno amplificati alcuni contrasti nella coppia dovuti anche alla vostra testardaggine Al desiderio di rivalsa che sempre provate quando ritenete di aver subito un torto Sagittario, questa luna mette l'accento sul vostro lavoro Non trascurate i dettagli, presentatevi preparati ad un appuntamento Venere, rischiare il vostro cielo in amore È il momento di prendere iniziative, di fare passi definitivi Capricorno, giornata fortunata sul lavoro che può regalarvi anche una bella emozione in amore Per il resto siete sempre un po' antipatici a causa della vostra vena critica Pronta a saltar fuori sul lavoro, in compenso avete idee geniali Acquario sarà una giornata complicata a causa degli imprevisti che vi impediranno di portare a termine Il vostro lavoro con la giusta tranquillità Non fatevi prendere dal nervosismo, nei prossimi giorni recupererete alla grande Pesci, la luna riesce a darvi una marcia in più quest'oggi Sul lavoro sarete pronti a dire la vostra e ad imporre un'idea In amore è l'occasione buona per far capire al partner quello che non apprezzate del rapporto E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azzus vi augurano buona fortuna Le stelle di Azzus Le stelle di Azzus